Eccolo! Che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Che dici? Che mostro! Sanà! Vediamo! Allora? Hai fatto 8 mesi 8 mesi Ce l'hai fatta? Ce l'abbiamo fatta? Ci stiamo! Che spettacolo! Stai a preparare? Stai a preparare? Chiaramente siamo tutti emozionati perché c'è la diretta, la finale però siamo tutti carichi Mi ricordo quando siamo venuti con la valigia e ti abbiamo lasciato qua per passare io Mamma mia è pazzesca! Le foto che hai scelto? Le abbiamo fatte tutte insieme Godica C'è il senso tanto Si si l'obiettivo alla fine è divertirsi L'obiettivo si Era dare il punto Fino a qua... Grazie! 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 Grazie!